Carissimi fratelli e sorelle, la gioia e la pace del Signore siano sempre con tutti voi e questa è la presenza del Signore nella nostra vita che produce serenità, che produce pace, benevolenza, amore. La parola di Dio viene seminata nei nostri cuori e, come ci insegna il Vangelo di oggi, Gesù racconta la parabola del Signatore, questa parabola la troviamo nei sinottici, per cui durante l'anno liturgico andiamo a più volte a raccontare gli stessi episodi, però presi dai diversi Vangeli in questo periodo, la Chiesa ci fa meditare, contemplare la vita di Gesù come appare nel Vangelo di San Luca. Bene, la parola di Dio viene seminata nel cuore dell'uomo. La parola di Dio può entrare nella mente, illuminare il cervello, illuminare la coscienza, ma non è sufficiente che entri nella cultura della persona, deve entrare nell'anima e ciò che entra nell'anima è lo Spirito di Dio, la presenza di Dio, che pervade l'anima dell'uomo e assimila l'uomo a se stesso. Ricordate le parole di San Paolo nella Seconda Corinti, noi come avviso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore. Noi veniamo trasformati, facciamo un tutt'uno con Gesù Cristo, al punto tale che a volte avviene che il Signore a delle persone dà un dono mistico. Ieri i frati francescani, tutti i francescani hanno ricordato l'evento della stigmatizzazione di San Francesco quando a Laverno pregandogli apparve un cherubbine e da lui partirono cinque ranci che penetrarono nelle membri di San Francesco e lasciarono le piaghe aperte, le piaghe della passione di Gesù. San Francesco era talmente unito a Gesù Cristo che faceva un cuor sole, un'anima sole con lui, tanto che si poteva dire che in Francesco viveva Gesù Cristo una vita intima al punto tale da partecipare pienamente all'anima di Gesù Cristo e questa stigmatizzazione noi l'abbiamo avuta anche in San Padre Pio, l'abbiamo avuta in tanti, in Teresa Neumann, in Santa Gemma Gargani, in tante persone durante la storia della Chiesa. In alcuni queste stimole adesso sono state rese visibili all'esterno, altri l'hanno avuto invece in maniera invisibile come Santa Caterina da Siena portava l'estigma dentro di sé ma non visibili. Santa Rita portava il segno della spina di Gesù sulla sua fronte che creava una sofferenza enorme. Il Signore assimilasse l'anima fino a diventare un cuor solo, un'anima sola, come per dire io, noi due siamo uniti nello Spirito Santo al punto tale che formiamo un essere solo, ma nella comunione, non nell'annullamento dell'individuo. Qualche persona a volte ha questo dubbio, ma il Dio se viene dentro di me allora annulla la mia personalità. No, tutt'altro la esalta, perché l'amore si esercita nella libertà, non nella schiavitù, ma nella libertà accolta, voluta, condivisa, per cui il dono è dono proprio perché è tale come nel matrimonio. La gioia sta nel dono, nell'appartenere e nell'accorrere l'altro, nel far comunione. Questa realtà di comunione non annulla la personalità dell'altro, tutt'altro se è vero amore, la sua libertà viene esaltata, viene manifestata e si acquista la vera libertà, quella che aveva una dama ed eva prima del peccato, la libertà di dialogare con Dio, la libertà di essere una cosa sola con Lui. Ma dama ed eva non resiste, era la tentazione. E quando Dio aveva creato per vivere in comunione, fu annullato dal peccato al rifiuto di dama ed eva. Ecco allora la parabola che il Signore ci offre oggi. Un seminatore uscì a seminare e, come noi sappiamo, parte del seme cade sulla strada, altre sotto le spine, altre nel terreno sassoso e altre nel terreno buono. naturalmente a portare frutto, dice Gesù, fu soltanto il seme seminato sul terreno buono. Perché? E perché il seme seminato sotto le spine viene soffocato quando germoglia. Quello lungo la strada viene beccato dagli uccelli incalpestati dai viandanti, quello nel terreno sassoso non riesce a penetrare con le radici, quindi si secca. Ciò che è stato seminato nel terreno buono porta frutti abbondanti. Ecco, la fede dipende, fratelli, da che cosa? Dipende dalla coglienza della parola di Dio. Dio semina la sua vita in noi attraverso la parola. Quindi l'ascolto della parola di Dio non è una semplice istruzione, è una comunicazione. Quando la parola di Dio viene accolta nel cuore, la presenza di Dio si manifesta. Perché ricordiamolo sempre, torniamo su certi argomenti già affrontati, ma è meglio ribadirli perché sono fondamentali nella vita cristiana. la parola di Dio non è una cosa, non è un discorso, è Dio che ti parla. La parola di Dio è Dio che ti si manifesta, perché Dio è Spirito. La parola è il modo del Signore di esprimersi all'esterno, per contattarci. Dio è Spirito e si rivela appunto attraverso la Sua parola. Questa parola poi si è fatta carne, è venuta ad abitare in mezzo a noi. Ce lo dice San Paolo al suo discepolo di Imotio nella prima lettura, quando gli raccomanda di conservare il comandamento ricevuto. Qual è questo comandamento? della fede, la fede in Gesù Cristo che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio il Beato e Unico Sovrano, il Re e Signore dei Signori, il Solo che possiede l'immortalità e abita in una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto, né può vederlo. Ha Lui onore, potenza, per sempre. Amen. Ecco, la fede va celebrata, la fede va vissuta attraverso la Sua parola. Dio si rivela all'uomo, si comunica e viene ad abitare in noi. E questa parola, fratelli, cosa chiede da noi? L'accoglienza della fede, l'obbedienza della fede, la sottomissione nella fede per fare comunione con Dio. E questa comunione, come abbiamo visto, ci porta fino a far sì che si realizzano in noi quelle parole di San Paolo e Galati, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Fizionate l'immagine di due sposi che donano la propria vita l'una all'altra, non donano semplicemente qualche cosa, un contatto fisico, ma l'intelligenza, l'affetto, i sentimenti, il proprio intimo, si partecipa all'altro per fare comunione e nella comunione non si annulla la personalità dell'altro, la sei salta? È questo che fa Gesù Cristo con noi. Quindi a Lui gloria, onore, potenza, per sempre. Amen. E la fede va testimoniata davanti a Dio che dà vita tutte le cose a Gesù Cristo che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato ti ordino di conservare senza macchia in modo irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Questo comandamento della fede conservala dentro di te. Per questo, fratelli, nella preghiera noi alimentiamo la fede. Nella preghiera noi alleviamo l'anima a Dio e allora ciò che Dio ci dice penetra nel profondo dell'anima e ci assimila a sé fino a fare comunione con noi. Non sono più che vivo e Cristo che vive in me. Signore Gesù, noi voi col salmista ti vogliamo oggi acclamare. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Suo popolo e gregge del suo pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazie i suoi atri con candidi lode lodate lo benedite il suo nome perché buono il Signore il suo amore per sempre la sua fedeltà di generazione in generazione. Ecco la testimonianza da dare a Gesù la testimonianza da dare a Dio con tutta la nostra vita. Perciò oggi varchiamo le soglie del cuore di Dio e entriamo nella comunione con Lui e lasciamoci avvolgere dal suo spirito d'amore per cui il suo amore diventi il nostro la sua benevolenza verso il prossimo diventi nostro la pazienza sua verso il peccatore diventi nostra che diventiamo perciò con Lui un cuor solo un'anima sola a te Gesù anche la nostra lode e la nostra riconoscenza poiché tu a questo ci hai chiamati e tu Vergine Santissimo guidaci in questo cammino di accoglienza di Gesù nella nostra vita e aiutaci a testimoniarla come tu l'hai testimoniato anche durante la passione di Gesù non l'hai mai rinnegato non ti sei mai allontanato da Lui oggi concedo a tutto il tuo popolo e alla tua chiesa di rendere testimonianza a Gesù soprattutto in questi tempi difficili a Lui gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen e chi vede la tua pazienza possa avere il dono di elevare il suo cuore a Dio dire ecco Dio è paziente come lo vedo testimoniare da questo suo testimone Amen